Prima di cominciare il video se volete ricevere delle criptovalute gratis potete partecipare alla giveaway che stiamo facendo per far crescere il canale Spiegherò quindi durante in quasi momento in questo video e come partecipare quindi guardate il video fino in fondo e buona fortuna a tutti Oggi voglio parlare di cose importanti che accadono nelle cripto se non avete visto questo grafico probabilmente vi lascerà bocca aperta Quindi questo è un grafico che mostro ogni tanto ma è sempre bene ricordare a tutti quanto sia davvero scarseggiante Bitcoin Ovviamente ragazzi parleremo anche per quanto riguarda El Salvador, parleremo anche per quanto riguarda Ethereum, parleremo di tutto ciò che è importante se siete coinvolti nelle cripto Quindi bentornati a tutti mi chiamo Marco, vorrei un video riguardo le criptovalute ogni giorno mostrandovi come fare soldi in questo tipo di mercato Se siete nuovi assicuratevi di iscrivervi ed attivare anche la campanella Iniziamo con Bitcoin sul grafico orario e possiamo vedere che siamo ancora al di sopra della fascia arancione E questo è importante e non solo siamo al di sopra di esso in questo momento sul grafico orario Ma è anche così se guardiamo per esempio il grafico invece giornaliero Perché sul grafico giornaliero possiamo vedere che abbiamo effettivamente diciamo aperto diciamo una candela E abbiamo anche chiuso diciamo una candela e sopra la fascia arancione Quindi abbiamo aperto e chiuso un'intera candela giornaliera sopra la fascia arancione Questo diciamo è decisamente molto molto importante per Bitcoin E questo ci segnala che sì, questo sarà un grande supporto se dovessimo tornare diciamo ai livelli per esempio qua giù Perché più a lungo siamo al di sopra di questa fascia più stiamo rafforzando questo livello E ok invece se torniamo per esempio al grafico orario e possiamo vedere che la tendenza generale che abbiamo avuto Mentre ci avvicinavamo e superavamo questo livello è ancora molto intatta E potete vedere che abbiamo ancora lo slancio che sta ancora facendo minimi e massimi più alti Quindi questo è molto importante anche questo sembra buono E inoltre possiamo anche vedere che stiamo diciamo creando un po' una struttura in questa zona Quindi diciamo voglio dire se diciamo possiamo fare qualcosa del genere Sì se vogliamo disegnarlo diciamo in queste candele qui Posso farlo anche io ma abbiamo questo tipo di formazione che sembra un canale in realtà Quindi potete vedere che possiamo fare qualcosa del genere Possiamo almeno vedere lo spirito dell'attuale direzione di Bitcoin Quindi tutto quanto sembra posto per Bitcoin tutto sembra andare bene E ora stiamo solo aspettando che reclamiamo diciamo uno dei livelli invece che abbiamo sopra appunto questi livelli Se controlliamo il prossimo livello appunto di resistenza sarà 55.200 dollari per Bitcoin E poi abbiamo anche ovviamente il supporto qui a 51.611 dollari se dovessimo scendere qui Appunto mi aspetto che questo funga ancora da un supporto recente per Bitcoin Quindi diciamo ragazzi che tutto quanto sembra buono ma per quanto riguarda Ethereum Quello che abbiamo è che siamo usciti da questa formazione e stiamo ancora lottando con la resistenza qui E intendo questa resistenza diciamo una volta che la supereremo Credo che avremo una spinta piuttosto rapida fino a livello successivo a 4.453 dollari Quindi questo è qualcosa che probabilmente già conoscete Quindi tutto sembra posto per Bitcoin tutto sembra posto anche per quanto riguarda Ethereum Ma quello che potreste non sapere è quanto sia scarsa gente in Bitcoin adesso E vi mostro tutto quanto ma prima assicuratevi di iscrivervi e di attivare anche la campanella delle notifiche E ovviamente ragazzi se volete anche ricevere dei bonus potete ottenere per esempio 2.000 dollari di bonus su Femex 3.600 e anche 10 dollari su Bybit E ovviamente potete anche ottenere i 2.200 dollari per esempio su Ctrade E ora ragazzi quindi una cosa che voglio prestare attenzione sono i tassi di finanziamento Potete vedere che i tassi di finanziamento sono ancora a un livello decente Ma se questo aumenta a livelli folli ovviamente Bitcoin sarà un po' diciamo più dischiosa a breve termine Ma non siamo neanche lontanamente vicini a questo I livelli folli sono a 2% 3% Ora siamo allo 0,17% quindi non sembra male Ma invece adesso parliamo per quanto riguarda la notizia che riguarda invece El Salvador Perché hanno appena reso pubblico e legale appunto Bitcoin Hanno acquistato 200 Bitcoin che potrebbero appunto non sembrare così tanti Ma se ci pensate potete andare in El Salvador in questo momento Entrare in qualsiasi negozio e loro devono essere appunto in grado di accettare Bitcoin E questo ragazzi è enorme Potete vedere che lo stesso presidente lo dice appunto su Twitter El Salvador ha appena acquistato i suoi primi 200 Bitcoin E i broker ne comprano molti di più con l'avvicinarsi della scadenza Quindi diciamo se non sapete di cosa si tratta Questo è il programma appunto che hanno In cui distribuiranno Bitcoin alla popolazione locale In modo che tutti quanti diventino familiari con l'uso dei portafogli E di cosa si tratta Perché diciamo che ci sono ancora molte molte incompressioni Diciamo su cosa sia in realtà Bitcoin Diciamo che molte persone vedono Bitcoin come OneCoin Come se prendesse tutte quante le cripto Voglio dire OneCoin non era nemmeno una criptovaluta Ma tutto ciò che suona come una cripto Qualsiasi cosa sia Una moneta, una cripto, un token Prendono tutto questo e presumono che sia solo una truffa Quindi questo è un bene per noi Difondere la consapevolezza e far sapere alle persone che Bitcoin è qui per restare E Bitcoin è destinato a lungo termine Ad essere una scelta migliore per El Salvador Da utilizzare diciamo come valuta rispetto al dollaro americano Ragazzi adesso stoppa un attimo il video E vi do le istruzioni per partecipare alla giveaway L'unica cosa che dovete fare è iscrivervi al canale Attivare la campanella delle notifiche E rispondere a questa domanda Quale pensate sarà il prossimo livello di supporto per Bitcoin? Rispondete nei commenti Inoltre inviate anche il vostro indirizzo BSC nei commenti dove volete appunto ricevere le cripto Adesso continuiamo con il video E penso che questo sia davvero davvero interessante Quindi vedremo ragazzi come andrà avanti Adesso invece voglio mostrarvi qualcosa di molto 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 interessante Quello che voglio mostrare appunto è Diciamo che possiamo vedere in questo grafico Che il volume è netto di trasferimento dall'exchange E questo è qualcosa che probabilmente conoscete già se guardate il mio canale Ma alcuni aggiornamenti sono stati mostrati qui E quindi potete vedere che abbiamo avuto diciamo questo enorme deflusso in Bitcoin Quindi lasciate che vi dica di cosa si tratta in realtà Quindi quando vediamo il verde significa che Bitcoin è stato trasferito nell'exchange E quando in rosso significa che appunto più Bitcoin è stato trasferito fuori dall'exchange Quindi le persone ritiravano quando è rosso E le persone diciamo depositavano quando è verde E confrontando tutti quanti i depositi e tutti quanti i prelievi diciamo che otteniamo appunto questo tipo di grafico Quindi per esempio abbiamo questo picco in alto per esempio in questa zona E significa che molte persone stavano depositando in questo giorno Significa che molte persone stavano ritirando invece in questa sezione Quindi credo che questo avesse qualcosa a che fare con il Ford su Binance Quando Binance aveva diciamo tutto quel Ford e stavano limitando i prelievi al massimo di due Bitcoin per account non verificati Molte persone sono semplicemente ritratte da questi exchange E io stavo pensando ancora che fosse super rialzista Anche se diciamo le persone che ritiravano perché Binance sta limitando appunto i prelievi Questo significa ancora che Bitcoin sia meno disponibile appunto sull'exchange E una volta che le persone inizieranno davvero appunto a comprare Quindi sì abbiamo visto questo massiccio ritiro e potete vedere che stiamo diciamo andando a ribasso diciamo in questo momento Quindi più persone stanno ritrando Bitcoin dall'exchange Io vi collegherò tutto quanto questo con il macro diciamo tra un po' Ma sappiate che in questo momento stiamo assistendo al ritiro di grandi quantità di Bitcoin dall'exchange E molto probabilmente vedremo qualcosa come questo periodo per esempio in questa zona Quando avevamo giorni dove più Bitcoin veniva depositato e prelevato Ma tutto sommato se guardiamo tutto questo intero punto qui abbiamo avuto molti più giorni in cui sono stati ritrati molti più Bitcoin Rispetto ai giorni dove Bitcoin è stato depositato Che quindi più Bitcoin stava lasciando l'exchange rispetto a quanto Bitcoin veniva depositato E guardiamo il prezzo che è la linea grigia appunto Il prezzo è andato in alto di molto e sì questo è anche ciò che appunto abbiamo nella long chain Ci stava dicendo che perché più persone ritiravano la stessa quantità E ancora più persone devono competere in quanto la domanda diciamo era alta E devono competere per meno Bitcoin in cambio Quindi diciamo che Bitcoin diciamo veniva ritirato Ma per esempio se guardiamo l'effettivo saldo per esempio di Bitcoin sull'exchange in questo momento Quindi anche il saldo sta scendendo ora a un ritmo diciamo molto rapido Potete vedere che in questo momento siamo allo stesso livello di aprile del 2021 Che era il comune appunto del mercato di Bitcoin Ma dovete andare fino in fondo tornando al 2018 per vedere la stessa quantità di saldo sull'exchange E ora le persone stanno usando diciamo rap Bitcoin sulle defi capisco tutto quanto Ma comunque sia se qualcuno vuole investire tipo un miliardo di Bitcoin Ci sarà meno Bitcoin sull'exchange in questo momento disponibile appunto per essere acquistato E come sapete diciamo che abbiamo avuto un picco diciamo ad aprile del 2020 Quando avevamo la maggiore quantità appunto di Bitcoin sull'exchange in questo periodo E questo trend qui sotto assieme al prezzo di Bitcoin diciamo che sale Quindi pensate diciamo alla quantità effettiva appunto di Bitcoin disponibile in questo momento Quindi questo saldo sull'exchange è 2.572.000 Bitcoin sull'exchange in questo momento E quindi potete vedere che proprio mentre il passo il mouse per esempio su questo fatto Che sta effettivamente dicendo appunto che è 2.408.000 Bitcoin Quindi questo diciamo non è aggiornato forse è ancora a livello simile Quindi forse non l'hanno aggiornato ma è qualcosa di simile Abbiamo ottenuto 1.700.000 Bitcoin diciamo con monete zombie per esempio Ovvero monete che non sono state spostate o probabilmente non verranno mai spostate Quindi essenzialmente questo dovrebbe essere tolto dalla circolazione Poi abbiamo anche Bitcoin per esempio per quanto riguarda il Grayscale Trust di Bitcoin E questi diciamo rimarranno lì, questi non verranno diciamo venduti a parte diciamo la piccola commissione Che Grayscale riceve per avere la custodia di Bitcoin Ovviamente abbiamo anche per quanto riguarda il mining di Bitcoin all'anno Abbiamo un paio di diversi governi che hanno comprato Bitcoin Abbiamo la truffa di Plus Stoker, abbiamo anche Bitcoin di proprietà di gemelli Wickel Voss Quindi andiamo diciamo ad esempio in fondo alla lista, in questa lista qui E questa è la quantità di Bitcoin che è trattenuta nei portafogli delle persone Bitcoin che diciamo non può essere rappresentato da qualcuno di specifico Come le piccole istituzioni che detengono Bitcoin o anche le grandi istituzioni Ma non abbiamo abbastanza diciamo da apprezzare Perché voglio mostrarvi anche i 105.000 Bitcoin appunto detenuti da MicroStrategy Quindi tutti gli altri Bitcoin che non possiamo tenere in considerazione per nessuna di queste categorie Sono proprio in questa sezione Quindi persone che detengono Bitcoin in portafogli hardware, istituzioni appunto e quant'altro E poi se scendiamo qui questa è la quantità di Bitcoin rimasta da minare E possiamo già vedere che non ci saranno più Bitcoin da minare a parte i 2.2 milioni di Bitcoin aggiuntivi Che diciamo non è molto rispetto a tutti quanti questi che abbiamo visto proprio qui Solo è stato sull'exchange in questo momento diciamo è così alto Abbiamo le monete zombie, abbiamo Griscale, Bitcoin Trust e abbiamo anche tutte quante le istituzioni Tutti quanti i retail investor che andranno a comprare a FOMO in Bitcoin una volta che supereremo il nostro precedente massimo storico Non potranno nemmeno acquistare questi Bitcoin che vengono lasciati da estrarre E dovranno competere per la piccola quantità di Bitcoin che si trova sull'exchange Quindi capite anche che ci saranno molti molti altri Bitcoin in circolazione da tenere in mente E questa è davvero la definizione appunto di una risorsa scarsa Quando per appunto è stato l'ultimo Bitcoin che appunto verrà estratto diciamo fra qualche centinaia di anni Quindi non dobbiamo preoccuparci in questo momento Comunque ragazzi questo qua è tutto quello che ho per questo video Grazie mille per la visione e come sempre ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti